Appuntamento con le previsioni del tempo in collaborazione col Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, ben trovati. Una saccatura di origine atlantica si estenderà progressivamente su tutta la penisola. Domenica diffuso maltempo con tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata sulle regioni settentrionali. Queste le previsioni per sabato 25 agosto in Campania. Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni ma con nuvolosità in intensificazione nel corso della mattinata, a cui saranno associati locali rovesci e temporali. I venti ispireranno moderati occidentali con locali raffiche nei temporali. Il mare si presenterà generalmente mosso, localmente molto mosso. Le temperature massime diminuiranno, la visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. Queste invece le previsioni per domenica 26 agosto in Campania. Cielo generalmente molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. I venti ispireranno moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi e con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà prevalentemente molto mosso. Le temperature diminuiranno, la visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. Bene è tutto per questo appuntamento, grazie per averci seguito. Grazie a tutti.